E' tornato Gimpent 30, l'integratore alimentare a base vegetale. Gimpent 30 aiuta a ridurre l'ansia e lo stress. Lo trovi in farmacia. Dalla ricerca Ambra Farm, Gimpent 30. E' tornato Gimpent 30, l'integratore alimentare a base vegetale. Aiuta a ridurre l'ansia e lo stress. Gimpent 30, l'antiossidante naturale che blocca le sostanze tossiche. Gimpent 30, lo trovi in farmacia. Dalla ricerca Ambra Farm, in farmacia, per voi Gimpent 30. E' tornato Gimpent 30, l'integratore alimentare a base vegetale. Utile contro problemi cardiovascolari, fenomeni infiammatori e di affaticamento cronico. Gimpent 30 migliora la circolazione agendo su pressione, gonfiore, pesantezza, fragilità capillare. Gimpent 30, l'antiossidante naturale che blocca le sostanze tossiche. Aiuta a difenderci dal tempo che passa giorno per giorno. Gimpent 30, lo trovi in farmacia.